Stefano, hai mangiato? Chiaffa e mi non muro Vediamo il sindicato Lui è il professionista che ha fatto il vinging e il balliccio Lui sta ristruendo la pianta Lui sta ristruendo così Sì, sta ristruendo la pianta Sì, sta ristruendo la pianta Quindi guardando, stai battendo tu, Fabio Fuori 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 Quando state? Quanto è qua? Però è il doppio, pure è potente Stai ristruendo lo scarto A tagliolo come te Adesso lo metto da giugno fino a settembre Ma perché? Aveva la gucchessio con il calcetto Quanto è nulla Quanto è nulla Quanto è il torneo con la bolla Ah, torneo con la bolla Sì Sono buone Sono buone? Sì Ma quando hai detto